lo sport in collaborazione con dai più valore alla tua casa fiali pegaso i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio una grande esposizione per arredare con mobili di qualità prezzi imbattibili e in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi novi alessandria visita il sito altra uscita amichevole per l'alessandria a bardonecchi a sede del ritiro e nuova vittoria roboante è terminata infatti 9 a 1 la partita di domenica tra i grigi e il lugano under 21 per la squadra di mister stellini ad inaugurare il tabellino marcatori ci ha pensato casa sola imitato da uno scatenato gonzalez dopo il gol degli svizzeri con villa infatti gonzalez ha iniziato il suo personale show calando il tris nel secondo tempo la squadra di stellini già avanti 3 a 1 ha dilagato con altre sei reti a segno bocalon ancora gonzalez autore di una tripletta al termine della gara doppietta di marconi oltre a sosa e fishnaller in casa juventus invece il giorno di federico bernardeschi da questa mattina il nuovo acquisto bianconero sta sostenendo le visite mediche al j medical poi raggiungerà i compagni negli stati uniti per partecipare all'international champions cup la juventus dopo la sconfitta di sabato notte per 2 a 1 contro il barcellona giocherà il 26 luglio a miami contro il paris saint germain e il 30 a new york contro la roma e c'erano tanti tifosi ad attendere bernardeschi al j medical per il talento di carrara classe 1994 è stato anche esposto uno striscione per chiedere che la gloriosa maglia numero 10 che fu di baggio e del piero gli venga affidata dopo l'ufficialità raggiungerà i nuovi compagni negli stati uniti pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nuovi alessandria visita il sito pegasomobili.it il meteo in collaborazione con c'è un solo posto dove trovare tutto per l'edilizia sacchi vittorino a mandrogne materiali edili piastrelle a redobagno serramenti e un professionale centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati sacchi vittorino dillo al tuo vicino il parco acquatico lavagello a castelletto d'orba in provincia di alessandria vi aspetta con numerose attrazioni per grandi e piccini vi potrete divertire con lo scivolo kamikaze lo scivolo toboga il multi race foam rapid river e il black hole inoltre se volete rilassarvi laguna caraibica immensa con giochi d'acqua idromassaggi e solarium acquatico sul bagnasciuga della laguna per il piacere dei bimbi c'è l'isola del tesoro un parco giochi con sette scivoli divertentissimi situati nella zona con l'altezza dell'acqua più bassa per migliorare la sicurezza e dare maggiore tranquillità alle mamme sala giochi elettronici con biliardo e tavolo da ping pong maxi bar ristoro con tavoli interni non vi resta che venire